La consapevolezza prima, la richiesta di aiuto poi, può anche capitare il contrario, però i centri antiviolenza esistono per questo. Da Andrea parte l'invito alla denuncia, basta un primo campanello d'allarme. La violenza non è solo fisica, essenzialmente quella dell'uomo nei confronti della donna, può anche essere psicologica ed economica. Spesso sono le donne ad esercitarla sull'uomo. Si chiama violenza di genere, venirne fuori si può, anzi si deve. Si combatte attraverso la consapevolezza, cioè la consapevolezza delle vittime che sono vittime di una determinata situazione, la consapevolezza che hanno la possibilità di chiedere aiuto, che c'è una rete di sostegno locale in grado di supportarle e soprattutto attraverso la consapevolezza che da quella situazione è possibile uscire. Oltre 150 i casi nella sola provincia di Barletta-Andreatrani, di cui si è occupato il centro antiviolenza futura, l'invito alle donne, ma anche agli uomini, è quello di non nascondersi. Non tutti arrivano già con un livello di consapevolezza alto, che permette poi di fare tutta una serie di interventi, ma arrivano anche persone che all'inizio hanno bisogno di informazioni per poi man mano approfondire il livello di consapevolezza, mentre arrivano già persone che si riconoscono proprio nel ruolo di vittime, per cui chiedono una serie di interventi che possa aiutarle a risolvere il problema della violenza.